Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Domani nella chiesa di Santa Croce di Calcinelli l'ultimo saluto a Gianni Ambrosini l'operaio fanese di 44 anni deceduto l'unidì scorso precipitando da una gru Gli cade il borsello e parte un colpo di pistola nell'ufficio pubblico di Monteporzio arrestato cinquantenne con un'arma clandestina indignazione per pacchi di pasta e scatole di legumi destinati alla Caritas gettati in un cassonetto dell'immondizia degrado al pincio sporcizia e incuria l'amara sorpresa dei turisti che lo visitano tutto pronto alla cooperativa Tre Ponti di Fanno per la 32esima edizione della festa della Crescia Matta Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia si svolgeranno domani mattina alle 9.30 nella chiesa Santa Croce di Calcinelli a Saltara i funerali di Gianni Ambrosini l'operario di 44 anni deceduto lunedì scorso precipitando da una gru alta oltre 20 metri a pochi passi dalla Basilica di San Paterniano a Fano alle ore 9 la salma partirà dall'obitorio dell'ospedale Santa Croce per giungere a Calcinelli dove Ambrosini era cresciuto prima di trasferirsi a Ponte degli Alberi di Monte Felcino saranno in tanti domani a stringersi attorno alla famiglia del 44enne che lascia la moglie e due figlie il medico legale di ieri ha eseguito l'autopsia escludendo che l'uomo abbia avuto un malore prima della caduta e a questo riguardo si è espressa anche l'onorevole Camilla Fabri presidente della commissione infortuni sul lavoro l'incidente mortale avvenuto l'uno di scorso a Fano che è costato la vita di un operaio di soli 44 anni merita l'accertamento e l'impegno e l'attenzione oltre che degli organi preposti anche della nostra commissione ho inviato oggi una richiesta alla prefettura per acquisire tutte le informazioni necessarie incidenti del genere non possono e non devono ripetersi e siamo alla cronaca gli cade il borsello e gli parte un colpo di pistola è accaduto in un ufficio pubblico di Monteporzio dove un cinquantenne campano residente a Marotta si era recato insieme alla figlia all'inizio l'uomo si è scusato dicendo che si trattasse dell'esplosione di un accendino e si è allontanato in tutta fretta mentre i dipendenti increduli si interrogavano sull'accaduto un passante ha allertato i carabinieri che una volta giunti sul posto hanno trovato un foro in una porta e dopo aver raccolto le testimonianze hanno raggiunto la casa del cinquantenne dove hanno rinvenuto l'arma che ha esploso il colpo l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per porto e detenzione di arma clandestina ricettazione ed accensioni pericolose nei prossimi giorni si terrà il giudizio di convalida dell'arrestato ed ora ci occupiamo di una segnalazione di una nostra telespettatrice perché dentro un cassonetto destinato allo sfalcio delle erbe nel quartiere di San Lazzaro a Fano è stato ritrovato scatolame e pacche di pasta con scadenza 2017-2018 proveniente di agli aiuti dell'Unione Europea destinati ai meno abbienti vediamo sul posto si è recato Marco Ferri con la nostra truppa la signora Fernanda giustamente è indignata per quello che è stato buttato nel... perché? E non ragione? la roba la prende dalla carità prende la roba che la dà da bagnere la butta e ma lì tra l'erba ma ci vuole il giudizio però cosa c'era là dentro? venga a vedere andiamo a vedere che sfaccia ti can se i vedri chissà qui faria guarda questo è il bidone degli sfalci e delle potature quindi dell'erba guardate guardate qua quanta roba è stata buttata via qui c'è scritto aiuto prodotto non commerciale questo è il minestrone qui c'è la pasta vedete ogni genere di pasta vediamo la scadenza allora la scadenza 21 ottobre 2016 qua dentro c'è il riso ecco la signora ha aperto la scatola e scade nel novembre del 2017 guarda guarda quanti c'è? come c'è? eh vedete c'è veramente tanta roba tanta tanta adesso questo lo rimettiamo a posto io non so se qualcuno può venire chi ha chiamato la polizia? l'Elena la signora qui ci sono i piselli vedete ecco comunque tutta roba che che comunque molte ecco qui ci sono addirittura le lenticchie lessate vedete spaghetti c'è di tutto la sposteremo ma volevo mandare gli ispettori ambientali prima verificare questa cosa e poi vediamo di di recuperare sì perché comunque è tutta confezionata per cui secondo me si potrebbe tranquillamente recuperare tenendo conto che non c'è un po' d'erba insomma adesso noi recupereremo solo questa roba qui a mano poi chiaramente il cassonito lo svuotiamo come normalmente facciamo una volta recuperato quello che deve recuperare anzi probabilmente lo faremo in giornata chiaramente queste immagini devono scandalizzarci devono indignarci però non dobbiamo cadere nella trappola del pensiero che populista che vuole che tutte le persone buttino via gli aiuti che ricevono non è così quello che abbiamo visto è semplicemente il gesto sconsiderato di una persona una persona che come è andata a prendere alla Caritas questi prodotti poteva tranquillamente riportarli se non ne aveva più bisogno non lo ha fatto è un problema di coscienza è un problema suo chiaramente ma non dobbiamo dimenticare che invece la Caritas ogni giorno aiuta tantissime persone e lo fa 365 giorni all'anno ed è alla Caritas che non dobbiamo far mancare il nostro aiuto e il nostro sostegno e cambiamo decisamente argomento rimane alta la tensione nelle carceri marchigiane il segretario autonomo di polizia penitenziaria rende noto l'ennesima aggressione avvenuta nella casa di reclusione di Fossombrone dove un detenuto di origini marocchine ha aggredito un poliziotto l'aggressore di 22 anni con fine pena a giugno 2018 per reati di rapina e resistenza pubblico ufficiale ha colpito con violenza l'agente di servizio tanto da farlo ricorrere alle cure dei sanitari al pronto soccorso dell'ospedale di zona 15 i giorni di prognosi e 3 punti di sutura all'interno del labbro il SAP nel denunciare ancora una volta un'aggressione ai danni del personale della polizia penitenziaria esprime solidarietà al collega ferito ed ora ci occupiamo nuovamente del Pincio una delle zone più belle di Fano perché ancora in Curia e Degrado regnano incontrastati in quell'angolo così bello della città è avvenuto di recente a seguito di una visita sentiamo che cosa ci ha detto una delle guide più note della città di Fano che è andata proprio lì con un gruppo di turisti è una delle aree storiche più belle di tutta Fano racchiude in pochi metri con i suoi monumenti la romanità ed il periodo medioevale fanese nonché da lì parte una delle strade romane più famose la Flaminia avete capito bene per affanesi e non stiamo parlando del Pincio nel cuore di tanti che ci hanno passato momenti indimenticabili della loro infanzia e del carnevale vista la visuale di cui si gode da quel punto ne parliamo perché da molto tempo le pietre del Pincio e di suoi giardini urlano di dolore e gridano vendetta per essere da innumerevole tempo sotto scacco del degrado di spacciatori di clochard e di tutti coloro che non avendo di meglio da fare e godendo di indisturbata invisibilità utilizzano la sua splendida terrazza come una pattumiera un bivacco una latrina l'ultimo episodio della serie pochi giorni fa turisti stranieri in visita al sito si sono loro malgrado trovati di fronte ad uno spettacolo sconcertante è successo venerdì scorso sono venuta in occasione di una visita ai baluardi difensivi della città di Fano e ho portato una ventina di persone a vedere questo bellissimo bastione di Matteo Nuti e ci siamo ritrovati di fronte a queste belle scritte che inneggiano un pochino anche con parole non proprio corrette comunque al di là di tutto un bastione del 1464 rovinato da queste scritte è un peccato penso che forse i fanesi e nonna hanno perso l'abitudine a venire in questo posto quindi magari lasciandolo un pochino così in disparte forse qualcun altro si è appropriato di questo di questo spazio direi che sarebbe necessario ripulire il primo luogo e poi ecco riappuparsi di questo spazio che è bellissimo di fronte alle mure romane accanto alla porta maggiore con un bastione progettato da come dicevo da Matteo Nuti che per quei tempi era tanto molto innovativa quindi uno spazio da vivere e da vivere bene e tutte le mura del perimetro interno della terrazza del Pincio sono completamente ricoperte da scritte fatte con bombolette spray non c'è un metro libero venite e constatate voi stessi che Scempio si è potuto perpretare qui al Pincio sicuramente è uno spettacolo edificante agli occhi di chi viene in vacanza nella nostra città allora prendono il via domani invece siamo a eventi che danno lustro alla cittadina i concerti estivi dell'orchestra sinfonica Rossini e del coro Mezio Agostini novità di quest'anno una fusione con il centro Strudi Vitruviano vediamo l'orchestra sinfonica Rossini e il coro del teatro della fortuna Mezio Agostini sposano Vitruvio la tradizionale stagione concertistica estiva quest'anno si declina con il concetto Vitruviano di armonia si tratta di un pensiero presente in tutta la storia dell'arte ma che ora verrà proposto anche nella musica con un messaggio in chiave moderna infatti verrà portato all'attualità con Vitruvio 3.0 armonie sotto le stelle un'iniziativa la quale collabora il centro studi Vitruviani il programma prenderà il via venerdì 8 luglio all'ex chiesa di San Francesco in questa serata vorremmo ripercorrere nei secoli della storia della musica autori e gruppi che hanno composto seguendo un criterio anche numerico perché comunque l'armonia in questo caso è l'armonia dei numeri il 13 mercoledì ci sarà un concerto incentrato sul coro del teatro della fortuna mezzagostini una sorta di oratorio di Vivaldi iudita triunfans in cui appunto il coro avrà il proprio spazio e qui vedremo come la guerra oriente occidente fatto storico che poi ispirò Vivaldi per questa composizione sia un po' la disarmonia per cui il dualismo tra armonia e disarmonia poi termineremo con un concerto eclatante direi in piazza 20 settembre il 17 domenica con omaggio a John Williams quello che si può considerare uno dei più grandi compositori di musica da film della storia e di lui faremo una suite su Star Wars e poi lo stesso dell'esecuzione delle colonne sonore di Indiana Jones Superman E.T. I direttori di questa il direttore di questa serata sarà Roberto Molinelli e sarà impegnato l'orchestra Sinfonica Rossini con il grande organico oltre 50 elementi una bellissima nuova iniziativa identitaria della nostra città che speriamo abbia lunga vita Ebbene parliamo di ristrutturazioni ristrutturazioni importanti sono iniziati a Monbaroccio i lavori di recupero del campanile francescano del Beato Sante con la consegna del cantiere all'impresa che si è aggiudicata l'appalto è iniziata la fase conclusiva di un lungo percorso che finalmente restituirà lo storico manufatto realizzato nel Cinquecento alla sua originaria bellezza Bene ed ora torniamo a parlare della da poco conclusa Notte Rosa Carnevale in Salsa Jazz perché ha creato degli strascichi di polemica e i gruppi consigliari Progetto Fano e Udc hanno presentato in dato di Erna un'interrogazione relativa allo svolgimento della Notte Rosa 2016 nella quale chiedono chiarimenti in merito ai costi sostenuti dall'amministrazione comunale nonché ai riscontri che l'evento stesso ha ottenuto e con la possibilità di eventualmente riformulare il format del Carnevale Estivo e ora apriamo la pagina degli eventi che andremo a vivere in questo fine settimana e parliamo della festa della Crescia Matta perché è tutto pronto alla cooperativa Tre Ponti di Fano per la 32esima edizione di questa festa così amata e così ben voluta e ben frequentata da tutti quanti vediamo i volontari della cooperativa Tre Ponti guidati da Gino Bartolucci sono pronti a tornare per la festa della Crescia Matta da venerdì 8 a domenica 9 luglio con un format di sicuro successo nata 32 anni fa ed evoluta nel tempo la manifestazione che è organizzata dalla cooperativa Tre Ponti in collaborazione con la polisportiva Tre Ponti è diventata un punto di riferimento per numerosi visitatori provenienti anche da fuori regione anche quest'anno la cooperativa si allargherà per ospitare la manifestazione svalicando nel campo vicino così da creare un'area di circa 7000 metri quadrati Tre Ponti la piccola realtà dicevo 32esima edizione naturalmente è rimasta la festa più vecchia gli anni sono passati quando abbiamo incominciato questo habitat era piccolissimo oggi abbiamo dovuto prendere la terra del contadino perché naturalmente per accontentare la tanta gente che oramai conosce la nostra cresce matta la festa aprirà i battenti intorno alle 18 di venerdì quando gli stand gastronomici inizieranno a sfornare le prime cresce matte pizza e rosmarino fatte seguendo tutti i passaggi della tradizione contadina di una volta i cuochi della cooperativa sono pronti a sfornarne 4000 quelle necessarie a sfamare i visitatori previsti alle 21 poi via alle danze con l'orchestra grande evento che intratterrà gli ospiti con un concerto a base di liscio tabato sera abbiamo ioselito una bella orchestra qui locale perché praticamente poi per finire domenica con mattia diamantini alle ore 20 con la sua scuola di danza naturalmente e poi alle 21 con la grande orchestra locale di mario riccardi quest'anno abbiamo una novità naturalmente già la diciamo in tv così la gente viene preparata non sarà più un ingresso offerta ci sarà un piccolo biglietto i bambini non pagheranno niente e gli adulti pagano 2 euro e 50 significa che se viene una coppia con 5 euro passa una serata divertente però è un segnale che vogliamo dare perché purtroppo queste manifestazioni gli sponsor cominciano a essere noi abbiamo sempre la nostra BCC che è la quadratura importante però gli sponsor sono sempre più difficoltà gli eventi della cooperativa però non terminano qui si prosegue la prossima settimana si all'arena lunedì il GAV il dialettale di tutti i lunedì poi giovedì venerdì aggregato alla festa della Cresciamatta avremo giovedì Gigi e Iberta per i balli di gruppo per gli amanti di balli di gruppo e venerdì la chicca io la chiamo la chicca perché è la settima edizione di concorso di Acrepapelle e Barzellette il Sangostanzo Show come presentatori la fanno da padrona Bicio come ospite della Sai L'Ultima e tanti concorrenti quest'anno nuovi perché abbiamo pensato di perché tutti dicevano cambiate i concorrenti sono sempre quelli allora quest'anno dei 9-10 concorrenti solo due saranno gli anziani 8 concorrenti nuovi che vengono a cimentarsi con le loro barzellette ebbene quindi delle new entry per la rassegna Crepapelle sentiremo e ne vedremo delle belle ed è sempre il buon cibo e la buona musica l'ingrediente principale di questa festa che è giunta alla quinta edizione ma siamo a Novilara dove invece lì la tagliatella la fa da regina tagliatelle al castello vediamo tre giornate di festa intrattenimento musica dal vivo e stand gastronomici dopo successo delle passate edizioni torna dall'8 al 10 luglio la manifestazione tagliatella al castello un'iniziativa organizzata dall'associazione culturale La Stele nel suggestivo borgo di Novilara con quasi 8000 presenze e oltre 600 kg di tagliatelle fatte a mano l'evento è diventato una realtà sempre più importante per il territorio la festa che è nata dalla volontà di far vivere le tradizioni offre la possibilità di assaggiare piatti della tradizione culinaria dei borghi pesaresi in un contesto che unisce arte e buona musica alla dolce suggestione del paesaggio dei colli il programma di tagliatella al castello propone spettacoli di strada rappresentazioni teatrali video e concerti di tutti i generi quest'anno Novilara è una grandissima edizione è la quinta quindi siamo molto orgogliosi di essere arrivati fino qua le novità sono tante e innanzitutto dalla proposta appunto di location di situazione in quanto porteremmo tutto all'interno delle cinta murarie è una cosa nuova è una sfida vogliamo vedere appunto abbiamo studiato degli spazi in modo diverso dagli altri anni e vogliamo appunto che la gente viva a Pino l'intero castello l'intero borgo di Novilara già partiamo venerdì domani sera con un ospite d'eccezione eh sì partiamo forte Paolo Cevoli che è un grandissimo ospite per noi un onore e verrà qui nella serata appunto intorno alle nove e mezza dieci e farà un suo splendido spettacolo sabato e domenica invece sabato e domenica invece sono la domenica è una serata più legata alla tradizione quello che era la festa anche trent'anni fa quindi più legata al liscio e al dialettale al teatro di dialettale e invece nel sabato abbiamo trovato questa collaborazione col comune di Pesaro dove faremo una serata dedicata a Rossini a Gioachino Rossini non tanto come compositore musicale ma anche come esperto gastronomo gourmet la festa è aperta a tutti dai più piccoli ai più grandi l'ingresso ad un costo di 2,50 euro per gli adulti è gratuito per i bambini sotto i 14 anni abbiamo dei bus navetta da Pesaro che partono dalla palla di pomodoro e seguono lungo via le trieste poi passano per la stazione del treno e vengono su direttamente fino all'ingresso del castello quindi speriamo veramente di offrire il massimo a ogni fruitore che voglia entrare all'evento e vivere con noi quelle serate ebbene non c'è certo di che annoiarsi in questo fine settimana ed ora chiudiamo questa edizione di Occhio alla Notizia con un compleanno un compleanno ultracentenario a spegnere le 101 candeline e il signor Bruno Gambini ospite di Famiglia Nova Simona Zonghetti è andato questa mattina a trovarlo vediamo com'è andata Giornata di festa la casa albergo per anziani Famiglia Nova a Fano dove Bruno Gambini ha spento 101 candeline nato a Rosciano nel 1915 Gambini è stato sposato per 61 anni con Luisa ormai defunta della quale è stato molto innamorato Bruno che ha lavorato prima come agricoltore e poi nelle ferrovie dello Stato ha festeggiato il compleanno ultracentenario nella casa di riposo fanese dove oggi lo abbiamo raggiunto hai centenario agli ultracentenari solitamente ed obbligo chiedere qual è il segreto della longevità lei ne ha uno ho avuto una moglie brava quella è la cosa più bella del mondo per me era molto brava insomma anche l'amore allora può contribuire a rendere più bella la vita e anche più lunga sì sì io ho lavorato molto in ferrovia ho avuto 22 anni di lavoro continuamente già quello è volto per la famiglia è per me è stato molto utile ho visto prima non c'aveva non sapevo cosa voleva dire i soldi e dopo li ho visti qualche volta perché alla fine del mese c'era sempre la paguccia è tanto la responsabile di famiglia nuova Deborah De Angelis ci racconta come il nonnino ami la compagnia ma anche curare l'orto interno alla struttura Deborah Bruno è qua ormai da tre anni ecco come vi trovate lui è un compagnone sì Bruno ama tantissimo la compagnia diciamo che è entrato che non stava proprio così bene invece nel giro di pochissimo si è ripreso fisicamente è inserito in tutti i gruppi di amicizie lui gioca le carte lui si occupa del nostro piccolo orto anzi lui stesso ricordarmi guarda Deborah che è ora di andare a comprare il concime piuttosto che ama la compagnia femminile e quindi noi operatori siamo soprattutto donne e poi sì è una persona piacevolissima ha una bella famiglia molto presente loro sono sempre qui per visitarlo ma anche per ogni occasione importante e anche oggi arriveranno per festeggiare sì oggi dalle quattro e mezza ci sarà la torta spumante verrà l'assessore ovviamente a fare gli auguri a Bruno e tutti noi non possiamo mancare auguri tantissimi auguri di buon compleanno grazie grazie altrettanto grazie grazie a voi tutti arrivassi sì anche più perché ci sono anche di più degli anni arrivassi alla mia età ma già è un treguardo molto bello perché cento anni passati è una vita molto bella e poi non quello solo a star bene quello vuol dire tutto la vita ebbene auguri al signor Bruno anche da parte nostra e tutta la redazione e tutta Fano TV bene questa era l'ultima notizia grazie per essere stati in nostra compagnia e aver scelto la nostra informazione o che la notizia torna domani sera alle 20 e 30 buona serata a tutti voi e a domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.